che succede? Cos'è? Eh non lo so che cos'è ah ho capito cos'è. Le coordinate che è? Buongiorno! Buongiorno un pa. Buongiorno. Cioè figlio di ma è possibile oggi sei proprio tutto il giorno qua? Non mi volete me ne vado? Eh anche insomma anche sì. Come anche sì? No non è che noi non ti vogliamo solo gli accupipini che non ti vogliono. Non è vero mandano sempre sms. No no c'è solo Priscilla che adesso volete a conoscere. Mi odia. Allora siete impazienti di sapere dove andiamo oggi. Non vedevamo l'ora figlio di guarda. Non ho sentito le coordinate. Eh no oggi no perché non facciamo un viaggio facciamo un itinerario quindi tocchiamo più punti. Ah meno male guarda mia suocera si stava preoccupando perché l'altra volta si è trovata un'invasione titereschi col saccappello nascosti dietro la tenda della doccia. No no oggi può stare tranquilla perché invece di una meta ho scelto per voi alcuni ostelli sparsi per il mondo che però hanno una particolarità sono ubicati in dei siti che sono addirittura patrimonio dell'UNESCO quindi sono delle sistemazioni bellissime però a prezzi molto contenuti. Allora per chi non lo sapesse abbiamo iniziato settimana scorsa questo appuntamento i viaggi del figlio di per cui prendete appunti. Pippo sarà felicissimo che si spende poco. Appunto ma sono viaggi mentali. Io l'ho fatta per te questa. Ah grazie grazie. Ci ho messo pure i prezzi. Sono dirchio. Figlio di facci sapere dove andiamo oggi. Allora il primo è il Rocky Mountain Hotel sta a Petra in Giordania. Bellissimo. Sì è uno dei siti UNESCO più visitati al mondo. Si può stare proprio in centro città e però c'hai tutta la vista sulle montagne circostanti che al tramonto sono bellissime perché ci sono dei giochi di luci creati dal sole. Quindi mattina fanno schifo devi andare al tramonto. Esatto. E costa pensa solo ventuno euro. Peccato che costa mille e cinque il viaggio. No. Vabbè che c'è. Capito quando stai lì però ventuno euro. Tra l'altro poi gli ostelli prima erano delle cose insomma un po' così spartane. Adesso molti ostelli sono delle cose come come degli hotel non è più così quindi. Certo. Poi se andiamo in Spagna invece a Granada ci sono gli appartamentos Montescarlos che si trovano proprio nel quartiere Sacromonte lo conosci? Ecco qua a Roma scusa. È come Montesacro. È il corrispondivo spagnolo di Montesacro. E danno la vista direttamente sulla fortezza Alahambra. Anzi noi Alahambra. Alahambra. Che è la preziosa eredità della secolare dominazione araba e anche questa fortezza Alahambra è stata inserita nella lista dei siti patrimonio dell'umanità addirittura già dal millenovecentottanta quattro. Bravo. Questo costa un po' di più cinquanta euro. Eh beh oh cinquanta euro è troppo scusa. Eh vabbè ma Alahambra. Però costa meno andare in Spagna è vero. Poi per finire. Sì. Dulcis in fundo. Senti già dove dove che ti fa pensare? Marocco? Rocco? Marocco. Ma no. Questa è la sistemazione perfetta per coloro che vogliono visitare le Ande. Le Ande? Le Ande. Volete visitare me? Le Ande. Le Ande chiamate il napoletano. Uè le Ande. A me non mi visita nessuno eh. Qual è la capitale del Perù? Lima. Però quella vera? Le unghie. Prima le unghie. No la capitale vera prima era una città che si chiama Cusco e che sta eh è una vera e propria perla incastonata nella nel bacino nel bacino sì nella catena montuosa. Sì. Sta a quattromila metri sopra sopra il livello del mare quindi è eh quindi c'aria pura. Sì sì. Anche questa è stata nominata patrimonio dell'umanità nel milenovecentottantatré ed è la capitale storica perché era la vera capitale cioè la capitale dell'impero inca. Se vi trovate a passare di lì tanto uno. Così per caso. Ci passa da Cusco. Sì. Dovete andare al casa. Lì non ci ha mai passato per caso da Cusco. Eh sì e te oggi. È a portata di mano. Vai. Dovete andare al casa dei camp hotel che costa diciotto euro a notte quindi Pippo puoi andare e dista pochi minuti dal pittoresco quartiere di San Blas che è uno dei più rinomati della città. Io ci sono andato. Davvero? Davvero. A San Blas sì. E ho avuto. Sono appena tornato e ho avuto la fortuna di intervistare uno degli abituè del luogo. addirittura. E chi era? Chi è? Eh. Il Condor delle Ande. No. Come il Condor delle Ande. È il Condor delle Ande. Vuoi sentire? Sentiamo. Vai senti. Signor Condor ma non potevamo fare l'intervista in un posto un più comodo. Ho capito ma non è che lei può parlare solo dai quattromila metri in su eh? Era un po' abbriato. Vabbè. Senta ma come mai Cusco era stata scelta come capitale dell'impero inca. Ma cosa ha detto? Niente era un po' troppo incazzato per rispondere e quindi alla fine è volato via. Vabbè io questa battuta però mi sarei vergognato di farla. Anch'io. Va bene basta così o c'è qualche altra metallocosto interessante. Guarda uno al volo proprio se volete andare a Goreme in Cappadocia c'è il local cave house hotel all'interno di grotte naturali proprio nella montagna abiti nelle grotte almeno lì siete sicuri che non trovate i Condor. Sì vabbè andiamo andiamo anche anche in Cappadocia però senza di sé. N2O. Un mondo allo stato puro.